In questo video vedremo come scaricare e poi installare il software di gestione della LIMA Active Inspire. Per prima cosa occorre andare nel sito del produttore, nel sito Promethean. Per questo andiamo su Google o in qualunque altro motore di ricerca e scriviamo Promethean Planet Italia. Il primo sito che ci verrà proposto è quello che a noi interessa, vale a dire www.prometheanplanet.com.it, vale a dire versione in italiano del sito. Ora, il sito appare in questo modo, ecco questo è il sito di Promethean Planet in italiano. Il sito è navigabile anche senza registrazione, però occorre registrarsi per scaricare il software. Per registrarsi, ecco, occorre premere il tasto Registrati nella parte sinistra e in quel caso inizierà un processo di registrazione, come vedete abbastanza tradizionale, con nome, cognome, password e importante indirizzo mail, perché tramite questo indirizzo, che deve essere attivo, ci arriverà la convalida della iscrizione. Una volta registrati, in questo sito inseriamo le nostre credenziali di accesso e a quel punto possiamo entrare. Una volta effettuato il login, vedremo che il sito appare in maniera identica prima, con la differenza che ci arriva un messaggio di benvenuto. A noi interessa ora andare nella sezione in alto software, clicchiamo su software. A quel punto ci viene proposta una carrellata di tutti i programmi che possono essere scaricati da questo sito. A noi interessa il primo, Active Inspire, quindi clicchiamo su scarica Active Inspire. A quel punto, dopo una breve attesa, ecco, vedremo comparire una pagina nella quale ci sono una serie di funzionalità dell'ultima versione di Active Inspire, compreso un video dimostrativo che parte in automatica e che ora però noi stoppiamo, nel quale vengono presentate le maggiori novità delle ultime versioni. Noi clicchiamo su Download, chiaramente, e qui ci vengono proposte le tre versioni del software, quella per Windows, Mac e Linux. A quel punto clicchiamo su quella di nostro interesse, ci sono anche i requisiti minimi delle macchine che possono eseguire il software. Diciamo che anche macchine molto vecchie possono eseguire, in alcuni casi con un po' di tranquillità, un po' di calma, il software Active Inspire. Clicchiamo su Download, relativa alla versione che a noi interessa. A quel punto comparirà un ulteriore questionario, piuttosto rapido, eccolo, nel quale dovremo inserire una serie di dati, il numero di studenti della nostra scuola, se possediamo hardware Promethean e anche a quali studenti noi ci rivolgeremo con il nostro software. Inseriremo infine il codice di verifica, che è normalmente un numero, e poi cliccando su Invia partirà automaticamente il download del nostro software.